Ciao amici del Nuovo Calcio, vi mostreremo oggi alcune proposte di lavoro sulla piometria da sviluppare in campo. Buon allenamento! Buon allenamento! Buon allenamento! Buon allenamento! Gli esercizi proposti possono essere svolti sia con le scarpe da calcio sia con le scarpe da ginnastica, con o senza l'utilizzo della palla. Buon allenamento! Buon allenamento! Buon allenamento! Buon allenamento! Buon allenamento!